ragazzi benvenuti in questo nuovo video siamo qui ancora sul villoresi ancora garbagnate stesso spot dell'altra volta ma c'è una differenza il torrente asciutto adesso giro la telecamera così vi faccio vedere ogni anno il canale villoresi viene svuotato in questo periodo per far sì che venga pulito e sanificato insomma il fatto che rimangono tanti pesci in questo fiume adesso in questa zona qua ho fatto tutta la via tutta la via in questa zona esatta qua è pieno di banchi di alborelle ne ho già tirati su un paio sono piccoline e noi non lo vedete da qua ma vi assicuro che ce n'è veramente tantissime e sono venuto oggi perché l'ultima giornata di settembre l'ultima domenica di settembre quindi l'ultimo diciamo prima della completa dell'asciugatura completa e aggiungo anche prima che i gabbiani si mangiano tutti i le alborelle insomma i pesciolini e quindi sono qua per questo motivo sono venuto qua oggi anche perché è una delle ultime giornate di settembre una delle ultime giornate che si può pescare in questo spot in questo canale è anche una delle ultime giornate penso di domeniche con questo sole e questo caldo la montatura la montatura che ho messo per venire a pescare qui è semplice e ho pescato semplicemente a vista quindi c'è un amo piccolino con un cagnotto finto adesso vi faccio vedere un cagnotto di gomma come come questi qua che adesso vi farò vedere questi qua e niente sto lanciando dove c'è il branco e sto tirando su quindi niente di particolare un amo credo sia del 18 quello piccolo proprio per alborelle e niente tiriamo su così vi assicuro adesso sta passando il branco proprio qua sotto il banco di alborelle in caccia e ce ne sono veramente tante ecco la corrente rispetto a quando vengo a pescare col torrente con il canale pieno la corrente qui è palesemente inesistente perché la chiusa che parte da da somma lombardo quindi da dove entra l'acqua del ticino acqua non ti consente praticamente di di avere corrente questa è praticamente acqua che è ferma ormai da un po di giorni e sarà sempre meno perché verrà sempre più asciugata adesso c'è una minima parte di acqua che entra dal canale dal dal ticino più avanti diventerà completamente una secca e questi pesci rischiano di rimanere intrappolati qui in preda praticamente diventeranno preda soprattutto dei gabbiani ecco quindi questo è quindi ragazzi ho chiuso quella giornata perché è successo questo non so se riuscito a vederlo si è ingarbugliato tutto ma si è ingarbugliato in una maniera tale che devo tagliare rifare la montatura non mi sono portato niente dietro perché sono vicino a casa e quando venendo a pescare qua non porto mai nulla dietro però devo dire che insomma abbiamo tirato su un buon un buon 25 30 alborelli abbiamo tirato su in un'ora e mezza circa perché va andando a branchi veramente li mangia una mangiano tutte e non ho fatto foto perché comunque ho lanciato e ritiravo più che altro cioè semplicemente pescando a vista pescati e tiravi su e che altro devo dire speriamo speriamo comunque che adesso che mi dovrò cambiare per forza poco nel senso andrò da qualche altra parte visto che il fiume ormai è in secca quindi ci sarà ancora una settimana poi sarà completamente prosciugato e c'erano già le anatre che stavano facendo i banchetti quindi immagino che di roba da tirassù c'è poco comunque ho passato un bel pomeriggio e adesso dovrò mettere a posto questa canna da pesca qua perché come ho detto prima troppo ingarbugliata quindi da mettere a posto e niente ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto a me non resta che salutarvi dall'appuntamento col prossimo video del canale ciao a tutti